Come sta oggi il mondo arbitrale nelle categorie minori? Si parla tanto di Vara oggi e ci si dimentica che il Vara forse la Serie A lo vedrà solo lei per i prossimi 50 anni. Esatto, purtroppo attualmente si parla esclusivamente degli errori arbitrali della Serie A, Serie B, diciamo dei campionati professionistici. Gli arbitri direttantistici hanno poca attenzione sia per quanto riguarda i media sia per quanto riguarda il rispetto anche dei calciatori, dei genitori e questo è un tema molto importante da affrontare secondo me. Attualmente, solo per fare un esempio, nel 2018 abbiamo avuto 300 aggressioni agli arbitri e questo è un dato inaccettabile. D'altronde se non si entra nell'ottica che l'arbitro è lì per far rispettare le regole, a quel punto è inutile anche che si giochi a calcio. Enrico, cosa faresti tu? Io innanzitutto inaspirerei le sanzioni perché oggi come oggi uno, vediamo anche per esempio quello che è successo in Serie A, si può permettere di dire tutto e prendere una giornata, due giornate di disqualifica. Questo sicuramente non è un aiuto alla figura arbitrale, sminuisce molto la figura arbitrale quello che è la sanzione sportiva. Cosa farei? Tutelerei innanzitutto di più gli arbitri, ma come? Attraverso una cultura sportiva, perché purtroppo noi possiamo mettere in pratica tutte le azioni che vogliamo, se alla fine non cambia la cultura sportiva e non si ha più rispetto dell'arbitro, che a volte, soprattutto nelle sede inferiori, sono ragazzi di 15 anni, alla prima esperienza, d'altronde non risolviamo il problema. Il primo problema del calcio giovanile sono i genitori. Qui dare il cartellino verde che hanno in sottopolo rosso. Stefano, eccolo qua, cartellino rosso o giallo? Arancione.